Amici di Windows Teca di Nocchioteca, siamo al Mobile World Congress a Barcellona nello stand di Nokia e oggi vi vogliamo presentare un interessantissimo accessorio per tutti i nostri Windows Phone. Stiamo parlando delle casse JBL Power Up, una cassa con due altoparlanti da 10W e l'uno che grazie al pairing NFC ci permette di ascoltare la nostra musica senza fili ma soprattutto permette anche la ricarica del nostro dispositivo tramite wireless charging quindi mentre ascoltiamo la musica il nostro dispositivo si ricarica e quindi non si scaricherà mai per una durata di ascolto della musica ancora più elevata. Come funziona? Beh tutto molto facile perché una volta eseguito il pairing con il nostro device quindi tramite l'NFC del nostro telefono e con la cassa come potete vedere si esegue il pairing, si va sulla propria musica preferita e si fa partire. come avete potuto sentire oltre alla qualità ottima dell'audio avete visto che appena io ho appoggiato il telefono sulle JBL è partita la ricarica questo grazie ovviamente sia alle JBL ma anche alla cover delle 1020 che ci permette di fare questo quindi la cover aggiuntiva. La qualità del suono è davvero eccezionale noi tra l'altro il volume era abbastanza basso tra virgolette per coprire la potenza di questa cassa che ripeto ha due altoparlanti frontali da 10W in uno NFC, ottima qualità e wireless charging davvero un ottimo prodotto. Direi che è tutto, un saluto da Francesco Colonna per Windows Teca e Nocchioteca Ciao a tutti!